Dopo intere settimane con una nettissima prevalenza di malati di coronavirus uomini, ora si assiste all'esatto contrario. Sebbene in un quadro l'ospedale Morelli Covid-19 di Sondalo invia di netto miglioramento, i dati aggiornati a questa mattina alle 10 evidenziano purtroppo ancora tre decessi, due donne e un uomo e cinque ricoveri, tutte donne. Una tendenza è quella dell'aumento delle pazienti donne che si rafforza in questi giorni, seppure il divario nei decessi resti molto ampio. Dal 2 marzo scorso al Morelli sono morti 103 uomini e 36 donne. Attualmente a Sondalo risultano ricoverati 124 pazienti, 65 donne e 59 uomini. Dai risultati resi noti relativi ai test dei giorni precedenti si evidenziano 26 positivi, un numero ancora alto, seppure soltanto in parte riferibile a nuovi contagi a fronte di 178 negativi. La buona notizia si riferisce alle 8 dimissioni, 4 uomini e 4 donne, pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia, che si stanno riprendendo ma che rimangono positivi, dunque contagiosi. Queste persone sono obbligate all'isolamento ma possono scegliere se trascorrere il periodo di tempo fino a quando risulteranno negativi a due tamponi a casa, in presenza delle necessarie condizioni, oppure presso il reparto di degenza di sorveglianza aperto al padiglione quarto del Morelli. A coloro i quali tornano a casa, potendo contare sull'assistenza, sulla disponibilità di una camera e di un bagno per isolarsi dal resto della famiglia, viene consegnato uno speciale kit contenente guanti, mascherine, liquido igienizzante e un saturimetro predisposto da SST e ATS della montagna. Le persone vengono seguite quotidianamente dall'ufficio di missioni protette, attivato da circa un mese dalla SST. Ad oggi sono 80 quelle in carico, ma si è arrivati fino a 150. A seguito della guarigione 70 sono uscite dal programma. Tutte possono contare sul supporto e sull'assistenza telefonica di due operatrici che si sincerano delle loro condizioni di salute, rispondono alle domande e in caso di necessità risolvono eventuali problemi. Un servizio importante che riscuote il gradimento dei pazienti e che consente di monitorare il percorso verso la completa guarigione.